Scordatevi la parentela con i veicoli commerciali del passato. Mercedes-Benz per la nuova classe V ha giocato infatti la carta dell'autorevolezza a 360 gradi. Ora è una grande prestigiosa monovolume, capace di trasformarsi in ufficio mobile, essere lo shuttle confortevole per gli alberghi più esclusivi, diventare l'ammiraglia per trasportare celebrità e VIP ai red carpet di tutto il mondo, rappresentare la prima auto tutto fare per le famiglie numerose. I passi su classe V sono due, abbiamo tre lunghezze, quindi partiamo da poco meno di 5 metri di lunghezza fino a superiore i 5,3 metri e ad oggi classe V sarà disponibile nella versione long, quindi la versione intermedia, che è già in fase di commercializzazione. Vettura proposta con trazione posteriore per le tre potenze disponibili è comunque una vettura che fornirà, e in realtà è già ordinabile, la trazione anche integrale. Tre invece le versioni tra cui trovare la più adatta alle proprie esigenze, Executive, Sport e Premium. Tre anche i motori offerti in gamma, tutti sviluppati sulla base del turbodiesel 4 cilindri da 2,1 litri con sovralimentazione a doppio stadio, disponibili con potenze da 136, 163 e 190 cavalli, quest'ultimo abbinato al cambio automatico 7G Tronic Plus. Infine i prezzi. Il listino parte dai 40.399 euro della classe V200 CDI Compact Executive per arrivare ai 62.735 della classe V Extra Long Premium con trazione integrale e cambio automatico.